C'è un posto ai margini del New England, è una cittadina come tante altre, ma se guarderete al di sotto della sua monotona superficie, vi troverete qualcosa di molto sorprendente. Il mio desiderio è che avvenga un cambiamento. Non sei una veggente. Dimmi chi sei e perché sei venuto qui. Con quel sinistro o finisci in galera o fai i soldi. Colpissi e scampa, colpissi e scampa, di sinistra. Liberio Mitri è il nuovo campione dei pensi medi. Dimmi si taglia, me la state nascondendo? Non sei della mia categoria. Mi piace sta ragazza. Hai sentito la storia del fatto che usiamo solo il 20% del cervello? Questa cosina qui ti dà accesso a tutto quello che non usi. All'improvviso sippi cosa dovevo fare. Una pillola al mattino e quello che potevo fare non aveva limiti. E da quando parli francese? Oh, non ero fatto, non ero sfizzato, ero lucido. Sapevo cosa dovevo fare e come farlo. Il cervello mi non dava di informazioni. Tutto quello che avevo letto, sentito, visto, era ben organizzato e disponibile. Eccolo qua, serviti pure. È passato da 12.000 a 2.000.3 in dieci giorni. Non ho mania di grandezza, ho un'autentica ricetta per la grandezza. Allora, Eddie Morra, qual è il tuo segreto? Medicina. Sto per catturare una specie rara in questa spedizione. Un pinguino impagliato. È vivo. Devo mandare il pinguino indietro. Ho recuperato il suo pinguino. Mi piace, eh? Punta, tacco, passo. Punta, tacco, lancia. Vuoi passare il sale? Secondo la scientifica si è trattato di suicidio e ora dobbiamo cercare di capire il perché. Forse non era solo, forse c'era qualcuno. Ascoltami, Giulia. Chi è? Un vuoto. Un'assenza. Chi sei? Lui è qui. E ora sa come trovarlo. Nel cuore dell'Africa storie di vita amore e coraggio Due razze di felini molto diverse ma con un legame comune la famiglia African Cats Buongiorno, sono esplendente. Adesso possiamo giocare all'aperto? Che ne dite di giocare a nascondino con me? Kitty, Mimi Un momento, che succede? Siete in tv? Siete pronte? Ecco, perfetto. Grazie. Non vorrei mai che ve la perdeste. Hello Kitty. Le do il benvenuto nel ventiduesimo secolo. È stato riportato in vita per uno scopo ben preciso. Contrastare la criminalità. Io voglio il mio collega Watson. Sono qui. Sono un computroide poliziorto modello 7. Ora il team è al completo. Sembrerebbe a prima vista un generatore biovirale non molto sofisticato. Come va a sapere tutte queste cose? Elementare, Watson. Mi limito a utilizzare gli occhi e il cervello. Sherlock Holmes. Indagini dal futuro. Luciano, Luciano, Luciano. Tre contro uno. Mi sembra un po' scorretto per voi. Luciador Supremo. Mi editrice universale. Sei pronto, Ricochet? Spero proprio che tu vinca questa volta. Ehi, quanta fretta. Luciano, Luciano.